Ciao ragazzi, oggi continuiamo il camminato con la salernitana su PS19 per PS4, giochiamo contro il Venezia andiamo avanti andiamo a schiava di gioco mettiamo quanto vani a posto di schiavi e per il resto lasciamo tutto così sortiamo solo i panchinari un po' più in forma e possiamo andare al calcio d'inizio Venezia salernitana se non sbaglio è il quinto posto, il Venezia se non sbaglio è il quinto posto ma è buono, ma è buono e qua mi attacca non lo perdere, non lo perdere, non lo perdere, hai perso dai, ecco bacco pro dai, ecco bacco pro no, ma che gol fan marsura, se non ce la faceva ecco bacco pro a tenerli così Bocalon, 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 che caccia, però Bocalon mi torna al gol, va a evitare, mamma mia, la tocco, chissà, la tocco, Ah vado Casasolo Ma uno che calcio in porta Vai Bucino Eh dovete segnare Che casp Ah io c'è Ma che se si fermano bro Vai Dioric Vai Oh mi allo Oh mi allo Ah vado a fanno Di autogoll Però voglio che di fortuna Ogni tanto Ah Di Andiamo a vincere Coppolaro Grazie Coppolaro Eh che caspito Ah vittoria Vittoria Boccalone Autocool E' un po' la cazzifica Va bene così Va bene così Prendiamo contro Venezia E ora siamo Quattordicesimi Va bene Va bene Va benissimo 22 punti Siamo a 12 punti Nel primo posto Andiamo avanti La prossima Contro Ternana Sarà l'interno Ternana Mamma mia Ci voleva con la vittoria Schema di gioco No In forma Amici Casa Sole Schiavi Ci portiamo Migliorini Per fare Riosare Un po' Poccalone Mettiamo Dioric Ah va bene così Andiamo a calcinezio Cambiamo Altima divisa Perché se no Io mi sciomni Va bene così Calcinezio Navica Nevica Allo stadio Orecchie Fa freddo Veramente Dai C'è anche Questo Puccino Schiavi Puccino Rosino Dai Orecchie Puccino Mamma mia Signora Chi mi lascia Vai Dioric Vai Dioric 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 Diuric Diuric Dai rinunciamo anche questo Vai Diuric Andiamo a giurtare all'angolino Bravo Diuric Dai Casasla Ma porca Vai Pucino Pucino Grande Pucino Facciamo stronzate Dai C'è Aia Lo sapevo No Gli ha buttato addosso ogni volta Gireti bravo Diuric OJER OJER 2-1 OJER Bravo OJER Schioe Ma dai ma come devo farlo Sì 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 Che state facendo Vai Diuric Vai Diuric Lo ha Lo ha Vedo Che la difesa non sale più Non punta sul fuorigiocco E vogliono proteggersi da lì impugate Non concedono la profondità Giro di alti 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 Aci OJER schiavi mettila provaci che sti guarda qua schiavi schiavi prorato urti schiavi schiavi non posso perdere santi e a chi sale ottimo ottimo due vittorie su due va benissimo va benissimo ci crediamo nella rimontata che posto siamo ora? siamo a tredicesimi 25 punti va benissimo va benissimo ora siamo solo a 9 punti dal primo posto ragazzi per questo video è tutto abbiamo rimontato parecchio se il video vi è piaciuto lasciate un like condividete e soprattutto iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo episodio ciao ciao Ciao